è un po' quello che è successo in precedenza rischia il fallo in attacco Haynes Mazzola con la tripla What? Semina Hogg e va a inchiodare il nuovo vantaggio dell'Umana Sceglie Pascolo il pallone deve uscire di nuovo arresto e tiro dalla media di Dustin Hogg il taglio di Hogg che non riesce a ricevere in area il recupero da parte di Nikolov che fa tutta velocità e in sottomano dopo aver evitato anche il rientro di Marble firma il più 8 Pramos evita la rimonta di Kraft non quella di Bettinho non ha la lucidità di far circolare il pallone in attacco prova a risolverla uno contro uno e questo è il risultato Venezia in contropiede più 20 rimane contro Watt la virata poi l'assist in angolo difficile questo pallone ma Kraft lo trasforma ugualmente in tre punti verso la linea di fondo lo scarico per Watt spazio per Haynes che si alza dalla lunga distanza e manda a bersaglio la seconda tripla della propria partita fa un'altra cosa preziosa poi pesca il taglio di Bramos gran palla premiata dal canestro Bruncaro in delirio l'assist di Pascolo per Bettinho allo stato attuale delle cose mi sembra che Venezia sia già con un piede in semifinale 19 per Bramos sul più 23 devi far solo passare il tempo per poter approdare in semifinale giocare col tempo alla fine della fila dai la palla a chi sta vedendo il canestro enorme ciao 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 ciao